Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bico con la variante di Valico Baccheraia. Nelle due notti di lunedì 4 luglio e martedì 5 sarà chiuso lo svincolo di Valdarno in entrata verso Roma in orario 22.6, in A12 per traffico intenso in direzione sud code a tratti tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano e in uscita alla barriera di Rosignano. Per la viabilità cittadina a Firenze in Viale Amendola ha chiuso il controviale tra Viagiotto e il numero civico 48. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!